Avevano denunciato con una precisa e dettagliata nota indirizzata al dirigente dell'ASP 5 di Messina, al direttore di presidi ospedali di Mistretta e Sant'Agata Militello, al direttore generale dell'ASP 5 di Messina, al sindaco, al presidente del consiglio del comune di Mistretta, all'assessore regionale alla salute e alla stampa, la totale assenza in alcune giornate di uno specialista cardiologo anche al pronto soccorso del nosocomio di Mistretta, e ennesimo di servizio presso il San Salvatore, che da anni subisce tagli e mortificazioni, spesso in maniera silente. Per questo motivo i tre medici in servizio presso il San Salvatore di Mistretta sono stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione, alternativamente per 15 giorni ciascuno, rei di aver denunciato, informato e reso pubblico un problema interno all'ospedale, ad emettere il provvedimento l'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'ASP 5 di Messina, che motiva così la sua scelta. Le criticità denunciate avrebbero dovuto seguire le vie gerarchiche e non essere utilizzate con finalità di allarme sociale e con grave documento alla stessa gestione aziendale. Sebastiano Zingone, Tatiana Spinnato e Carlo Cannistraci sono stati quindi sospesi perché si sono fatti portavoce e megafono dei disagi che l'utenza ospedaliera vive presso il nosocomio Mastratino, a causa di una carenza che potrebbe avere anche gravi ripercussioni sulla funzionalità del servizio. La sensazione che ne deriva è che il mancato rispetto del protocollo, quale motivazione della sospensione, possa invece nascondere la volontà della dirigenza ASP 5 di salvaguardare la propria immagine a scapito della tutela dei presidi ospedalieri delle zone periferiche, in primis quello di Mistretta. La vicenda, che ha toccato profondamente i cittadini amastratini, sta facendo ora il giro virale su social e web, con un tantam di solidarietà e vicinanza per i tre medici sospesi. Grazie. 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 Grazie.